scontri tra tifosi domenica pomeriggio in Viale della Regione a Caltanissetta prima della partita di calcio tra Nisse ed Enna intervento delle forze dell'ordine due panetti di hashish nella busta dei biscotti arrestato un giovane a Gela IACP interventi in palazzine di via Puccini parla il direttore generale dell'istituto autonomo case popolari Antonio Mameli le ragazze dell'alba verde ricevute dal vescovo dopo l'episodio del prete sorpreso a guardare donazione del midollo osseo protocollo d'intesa tra comune e Lions Club sabato sera nisseni con l'arancina protagonisti in tv ben trovati scontri tra tifosi domenica pomeriggio in Viale della Regione a Caltanissetta prima della partita di calcio tra Nissa ed Enna si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine La Nissa pareggia il Palmindelli uno ad uno con l'Enna ma a fare più clamore sono stati i tafferugli iniziali prima del fischio d'inizio della partita di calcio una cinquantina di tifosi di Nissa ed Enna si sono scontrati proprio vicino all'ingresso dello stadio ma l'intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio pare che durante gli scontri ci siano stati alcuni tifosi che potrebbero avere riportato alcune ferite lievi e che nessuno di loro abbia avuto bisogno di recarsi al pronto soccorso adesso le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i protagonisti degli scontri Maltrattamenti un trentenne è stato arrestato a Caltanissetta dai carabinieri Mancano dieci giorni alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne e a Caltanissetta è stato arrestato dai carabinieri un uomo di trent'anni originario di Foggia la violenza tra le mura domestiche subite dalla compagna per tre anni avrebbe toccato il culmine l'ultima volta percosse un braccio rotto un escalation di violenza che sarebbe accaduta davanti gli occhi della figlioletta poi la denuncia ai carabinieri del comando di Caltanissetta e l'arresto lo scorso sabato come deciso dal giudice delle indagini preliminari Santi Bologna ma a chi rivolgersi se si è vittime di violenza si può contattare subito il numero di emergenza 112 senza esitare né rimandare in caso di aggressione fisica o minaccia di aggressione fisica se si è vittima di violenza psicologica e se si sta fuggendo con i figli se il maltrattante possiede armi è a disposizione anche il numero antiviolenza e antistalking 1522 numero di pubblica utilità che è attivo 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno accessibile su tutto il territorio nazionale sia da numeri fissi che da mobili con un'accoglienza disponibile sia in lingua italiana inglese francese araba e spagnola. L'app 1522 consente alle donne di poter chattare con le operatrici ed è possibile anche attraverso il sito ufficiale del numero antiviolenza e antistalking 1522. Poi c'è anche l'app della UPOL realizzata dalla polizia di stato ed infine se si ha bisogno di cure mediche immediate ed urgenti si chiama il 118. Gli operatori sociosanitari del pronto soccorso oltre a fornire le cure necessarie sapranno indirizzare la persona vittima di violenza verso un percorso di uscita dalla violenza. Due panetti di acisce nella busta dei biscotti fermato un giovane a Gela. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno tratto in arresto un 24enne nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della squadra investigativa nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti hanno eseguito una perquisizione presso l'abitazione del giovane gravato da precedenti di polizia dove nel corso della predetta attività gli agendi su un terreno incolto di acende l'abitazione hanno rinvenuto una busta di biscotti con all'interno due panetti di acisce del peso lorto di 82,63 grammi. Altri 5,42 grammi della stessa sostanza sono stati trovati dentro il bauletto di un ciclomotore parcheggiato all'interno di un garage. L'arrestato è stato condotto in commissariato per gli addembimenti di rito e su disposizione del pubblico ministero di turno presso la procura della Repubblica di Gela accompagnato agli arresti domiciliari. Caltanisset IACP interventi nelle palazzine di via Puccini parla il direttore generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari Antonio Mameli. Sono passati circa quattro anni dal completamento dello sgombero di via Puccini dopo un lungo processo e furono trovate altre sistemazioni per le numerose famiglie che vivevano in quelle palazzine. Adesso grazie ai fondi del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, potranno essere realizzati alcuni degli interventi necessari così come ha spiegato il direttore generale dell'IACP Antonio Mameli durante la cerimonia di inaugurazione del tratto di via Piola Torre svoltasi nei giorni scorsi. In via Puccini abbiamo avuto 64 alloggi sgomberati per problemi tecnici e fortunatamente con il PNRR abbiamo ottenuto l'ammissione al finanziamento dell'intero progetto relativo al recupero delle due palazzine. Ma la cosa più importante invece è che abbiamo ottenuto il finanziamento di parte di questo intervento per cui a breve sarà bandita la gara, i progetti sono stati presentati ed approvati per il recupero e la ristrutturazione delle palazzine ricorrenti nei civici 3 e 5. Altro passo importante per la città perché anche quella zona come questa è un biglietto di visita per l'ingresso alla città perché chi arriva da fuori la prima cosa che incontra è proprio la via Puccini quindi vogliamo fare un intervento che caratterizzi e soprattutto la qualifichi. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha approvato i progetti di videosorveglianza per Caltanissetta, Gela, Niscemi, San Cataldo e Bonpensiere. I progetti di videosorveglianza dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica dei Comuni di Caltanissetta, Gela, Niscemi, San Cataldo e Bonpensiere sono stati approvati durante la riunione del Comitato Provinciale presieduta dal Prefetto di Caltanissetta in cui erano presenti i vertici delle forze di polizia e referenti della zona telecomunicazioni di Palermo. I progetti erano stati presentati dai comuni e sono stati selezionati dal Ministero dell'Interno all'interno del programma operativo complementare POC Legalità 2014-2020. Proprio il Prefetto di Caltanissetta che era Armenia ha rimarcato l'importanza dei dispositivi di videosorveglianza che assumono una particolare valenza per il potenziamento della prevenzione generale in un'ottica di sicurezza integrata, anche a supporto dell'attività della Polizia giudiziaria attraverso l'implementazione dello scambio informativo tra forze di Polizia locale e quelle statali. Durante l'incontro i sindaci hanno illustrato le progettualità presentate, tutti con lo scopo di rafforzare la presenza degli impianti di videosorveglianza nei rispettivi territori comunali maggiormente nelle aree più vulnerabili sotto il profilo della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tra cui il Centro Storico e le aree ritenute strategiche in quanto interessate da episodi di criminalità diffusa. Nei prossimi giorni ci sarà un'ulteriore fase di esame da parte del Ministero. Le ragazze dell'Alba Verde ricevute dal Vescovo dopo l'episodio del prete sorpreso a guardare. È bastata una telefonata con una richiesta di incontro. È stato questo l'approccio con cui Monsignor Mario Russotto, vescovo della diocesi di Caltanissetta, ha manifestato a Doriana Mannella, presidente dell'Alba Verde, la volontà di parlare con le ragazze della squadra dopo la vicenda che ha riguardato un prete colto a spiare le atlete negli spogliatoi del Palacannizzaro dove abitualmente si allenano e giocano. Sabato, presso il seminario Vescovile, il presidente della società Nissena e una delegazione di ragazze sono state accolte da Monsignor Russotto che ha voluto chiedere scusa a nome suo personale di tutto l'ordine sacerdotale per l'ingrescioso episodio. In una nota rilasciata dalla pagina Facebook della società, Oriana Mannella ha dichiarato che si aspettava una reazione da parte della curia e da credente ha apprezzato che sia stato il Vescovo in persona a metterci la faccia, manifestando il suo dolore per la vicenda. Rimane la volontà della dirigenza, in comune accordo con le atlete, in buona parte giovanissime e i loro genitori di seguire gli sviluppi della vicenda, non essendo ancora chiaro se vi sarà un seguito giudiziario. Rifiuti controlli della Polizia Municipale 35 regolari su 53 nell'ultima settimana. Prosegue il piano dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale con il supporto degli operatori d'asti contro i furbetti della differenziata, cioè coloro che gettano i rifiuti fuori dal giorno previsto, o che effettua male la divisione dei rifiuti. Proprio d'asti comunica alla cittadinanza i dati dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale che continueranno fino a diversa comunicazione del Comune di Caltanissetta. Dal report emesso dagli agenti nei giorni dal 7 novembre al 12 novembre scorso sono stati 53 controlli, 35 i rifiuti erano regolari, 18 non conformi. Gli accertamenti sono stati effettuati in Viale Stefano Cannura, strada dietro Palazzetto dello Sport, piazzale Pian del Lago, contrada Bulgarella, via Concetto Marchese, via Vassallo, via Napoleone Colagliani, via degli Orti, via delle Calcare, via Capitano di Martino, Corso Umberto. Per chi volesse verificare i turni di corretto conferimento sul sito d'asti si può facilmente consultare e scaricare il calendario che prevede per la zona A il ritiro lunedì dell'organico, martedì del secco residuo, mercoledì dell'organico, carta e cartone, giovedì plastica, vetro e metalli, venerdì e sabato organico. Per la zona B lunedì organico, martedì plastica, mercoledì organico, vetro e metalli, giovedì secco residuo, venerdì organico, carta e cartone, sabato organico. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. Donazione del midollo osseo, protocollo d'intesa tra il comune di Caltanissetta e i Lions Club. Nei giorni scorsi, nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine, è stato siglato un protocollo d'intesa tra il comune nisseno e Lions Club International, distretto 108 YB Sicilia, rappresentato dal presidente del club nisseno, Salvatore Pilato. Il documento punta ad una sensibilizzazione sul tema della donazione del midollo osseo, delle cellule staminali e emopoietiche e del cordone ombelicale, con l'obiettivo di incentivare il numero dei donatori iscritti al registro regionale, quindi al registro italiano donatori midollo osseo. Stando al protocollo, verrà distribuito infatti del materiale informativo a tutti i cittadini, in particolare nella fascia di età che va dai 18 ai 35 anni, che chiedono il rilascio del documento d'identità. Si inserisce in un programma distrettuale, quindi che interessa tutti i Lions Club della Sicilia. Il nostro protocollo ha come obiettivo fondamentale quello di avviare una campagna di sensibilizzazione a favore della donazione degli organi, che programmiamo di sviluppare in due momenti diversi, perché intanto stiamo realizzando del materiale informativo che sarà presente nella sala del comune dove vengono rilasciate le carte di identità. Sappiamo infatti che il consenso alla donazione degli organi viene adesso espresso al momento del rilascio della carta di identità. Quindi poi stiamo organizzando anche dei programmi di sensibilizzazione dei ragazzi che frequentano le scuole, che poi verrà strutturato nel corso del prossimo anno, quindi nei primi mesi del 2023. La donazione degli organi è assolutamente fondamentale. Come chiariscono i pannelli che stiamo realizzando, è una scelta assolutamente importante, perché donare consente di dare vita a delle persone che vivono in condizioni di assoluta difficoltà per problemi sanitari, per problemi di salute e quando è possibile la donazione spesso è utilissima per salvare la vita di queste persone. Caltanissetta, iniziativa nel ricordo delle vittime di Nasseria. Dal 2009, il 12 novembre, giorno dell'attentato di Nasseria, è la giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Era il 12 novembre del 2003, quando alle ore 10.40, ora locale, le 8.40 in Italia, un'autocisterna forzò l'entrata principale della base maestrale, presidiata dai carabinieri italiani nella città di Nasseria in Iraq. I due uomini a bordo fecero esplodere una bomba e la deflagrazione, con un effetto domino, fece saltare in aria il deposito munizioni. Il bilancio fu tragico. Morirono 12 carabinieri, 5 soldati dell'esercito e 2 civili, oltre 9 iracheni. I feriti furono 20, 15 carabinieri, 4 militari e un civile. Anche a Caltanissetta, su iniziativa del gruppo consigliare della Lega, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri di Caltanissetta, sabato mattina, alle 8.40 al Monumento ai Caduti, ha ricordato l'evento con una deposizione di due corone d'alloro. Una messa nel pomeriggio a San Giuseppe e una deposizione di una corona d'alloro anche alla sede Associazione Nazionale Carabinieri, sezione Ogulini. È un giorno importante perché per la prima volta nel giorno del 19. anniversario della strage di Nasseria, siamo qui a commemorare le vittime in piazza, appunto, vittime di Nasseria, che è inaugurata quest'anno e all'inizio del 2022, dopo una mozione da me presentata ma votata da tutto il Consiglio Comunale, che ancora ringrazio. Grazie a loro abbiamo potuto oggi qui commemorare le vittime ed ogni anno questo spazio sarà dedicato proprio alla commemorazione non solo delle vittime in Nasseria, ma siamo alle spalle del Monumento ai Caduti e tutti caduti per servire la patria, per portare democrazia e pace in giro per il mondo. Siamo molto contenti che il Comune abbia voluto ricordare questa giornata, così tragica per il nostro Paese, ma così importante anche da ricordare nella memoria perennemente, al ricordo di questo sacrificio che l'Italia ha pagato per portare la pace nei territori martoriati dalla guerra. L'anniversario della Cattedrale di Caltanissetta, celebrazione per ricordare la consacrazione risalente al 1733. La Cattedrale festeggia il suo compleanno con il solenne pontificale del Vescovo della Dioce Sinissena, Monsignor Mario Russotto, nella Chiesa di Santa Maria la Nova. Domenica 13 novembre è stato celebrato l'anniversario della dedicazione della Cattedrale, una ricorrenza speciale per la parrocchia che ricorda la consacrazione della Chiesa, evento del 1733 che viene indicato anche in una lapide incastonata in una delle colonne della Navata Centrale. In quella giornata infatti vengono inoltre accese 12 candele in corrispondenza delle 12 croci presenti nelle pareti della Cattedrale. Ogni anno la nostra Chiesa Cattedrale si adorna e si illumina a festa per ricordare la sua consacrazione. Questo Tempio materiale è stato un giorno consacrato con l'olio santo e questo evento è ricordato da 12 croci che si trovano sulle pareti della Cattedrale a ricordare i 12 apostoli. La nostra Cattedrale ha appunto queste colonne che sino a qualche tempo fa, intorno agli anni 40-50, erano adornate anche proprio da 12 statue dei 12 apostoli. Più nella parte interna della facciata ci sono ancora, e quindi della stessa fattezza, l'Immacolata, il Redentore al centro e San Michele di Lato. Ogni anno il Vescovo ricorda la dedicazione del Tempio della Cattedrale con un pontificale, una messa solenne a cui partecipano tutti i fedeli, i sacerdoti della Cattedrale. È un momento come del compleanno, ecco a ricordare il compleanno della Chiesa Cattedrale. In questi giorni per esempio si celebra la dedicazione di San Giovanni il Laterano, la Basilica di Roma, si celebrano anche le dedicazioni delle proprie Chiese, quindi l'importante è celebrare, ricordare la consacrazione. La data può anche essere oscillante. Risparmi all'acqua arriva nel capoluogo nisseno dopo le tappe di Palermo, Catania e Messina. Il primo roadshow della campagna di informazione, educazione e sensibilizzazione voluta dalla regione siciliana sull'uso consapevole dell'acqua. Risparmi all'acqua arriva a Caltanissetta. Ad ottobre ha visto come prima tappa Palermo, poi Catania, Messina, Ragusene e adesso arriva nel capoluogo nisseno. A novembre raggiungerà le altre città siciliane. Esperienza immersiva per apprendere le buone pratiche e risparmiare l'acqua. Risparmi all'acqua è il progetto della regione siciliana attraverso il Dipartimento Acqua e Rifiuti. Incontrerà i giovani e lo farà attraverso il loro, sfruttando i loro linguaggi, la tecnologia, le tecniche VR, EduGame, proprio per avvicinarsi a loro, facendo vivere un'esperienza interattiva attraverso la quale potranno avere informazioni sul corretto uso della risorsa idrica, sensibilizzarsi sul tema che tra l'altro loro conoscono molto bene, stiamo appurando, già a scuola vengono formati, però qui ecco vivono proprio un'esperienza che tocca i loro sensi, suoni, giochi, colori, video, sono proprio i linguaggi che loro hanno cari e quindi sicuramente la formula stiamo riscontrando che funziona. Si impara giocando, così in corso Umberto I dalla mattina di oggi e fino a domani all'interno del track le prime scolaresche hanno potuto fare dei giochi a tema sul risparmio idrico, hanno anche ricevuto dei gadget per ricordare che il bene più prezioso è l'acqua. Sabato sera nisseni i protagonisti in tv con l'arancina. Sono tornati a casa con il sorriso e la gioia di avere raccontato il lavoro che c'è dietro ogni arancina speciale e le loro storie che sono fatte della quotidianità che vivono nella sede giorno per giorno, lì che stamattina siamo andati a trovarli nel piano di una delle loro attività. Su una delle pareti della sala un cuore che contiene i loro nomi, quelli delle loro educatrici. Raggi d'isole è l'incubatore da cui poi è nata l'attività, da un laboratorio gastronomico fatto con il maestro Zuppardo, come ha raccontato il presidente della cooperativa Etnos. Quando uno dei nostri ragazzi, per l'appunto Andrea, ha detto sono stato bravo e allora lì si è accesa la lampadina. Allora dobbiamo osare, dobbiamo fare qualcosa che possa davvero rappresentarci per l'immagine e l'idea che abbiamo, cioè quella di dire che il lavoro è la forma di, scusate il termine, riabilitazione più elevata. Perché il lavoro che stiamo cercando di proporre, che abbiamo voluto dimostrare con la concretezza, è davvero uno strumento di cura, di riconoscimento di dignità. La scelta di una ribalta nazionale per condividere l'obiettivo e già in tanti imprenditori si sono messi in contatto con loro qualcuno anche per donare materie prime. Ed è per questo che adesso cercheremo di parlarne, anche proprio guardiamo avanti, ne parleremo, proveremo a parlarne col presidente della Repubblica, ne parleremo col presidente del Senato, ne proveremo a parlare con sua santità il Papa. Cioè cerchiamo di andare dappertutto, perché dappertutto questo ci permetterà di raccontare una storia vera. A chi parla di strumentalizzazione il presidente della cooperativa risponde. Chi dice che spettacolarizziamo o che strumentalizziamo lo pensi pure, ognuno risponda con la propria coscienza. Però la stessa cosa la facciamo anche con gli anziani, la stessa cosa la facciamo con i detenuti. Allora strumentalizziamo tutti o semplicemente facciamo bene il nostro lavoro? Caltanissetta Pinuccio in cattedrale, storie di miniere e carusi. Diceva sempre papà, ricordati che per andare in miniera ogni stella è grande così e il cielo è una bella miniera piena di pietre preziose che brillano, brillano sempre di più. Solo gli occhi di Tomasi brillano così. Papà, diceva sempre Antonio, allora vuol dire che la mamma è una miniera? La più bella miniera del mondo, rispondeva papà. Io ero contento quel lunedì mattina perché vedevo il ciclopo, le stelle, i compagni. Da quel giorno papà me lo sentivo più vicino. Per andare in miniera dalla badia ci mettevamo più di quattro chilometri a piedi e ogni tanto ci fermavamo alle cappellette che nel silenzio ci aspettavano. Nel silenzio assoluto della cattedrale illuminata, venerdì sera la voce di Aldo Rapè accompagnata dalle note suonate dall'artista Sergio Zaffarane in arte Zaffarari e cheggiava sino in piazza Garibaldili dove erano stati posizionati anche dei pannelli e la scritta Carusi. Lo spettacolo Pinuccio di e con il regista nisseno Aldo Rapè ha carpito l'attenzione del pubblico che ha riempito la chiesa di Santa Maria la Nova sin dal principio quando sono state pronunciate le prime battute e i presenti sono stati guidati in un viaggio nella storia. Quella delle miniere e soprattutto dei Carusi attraverso il racconto commovente di uno di loro Pinuccio. Durante il monologo Aldo Rapè ha infatti snocciolato le emozioni e difficoltà di quel bambino, dei suoi fratelli e della sua famiglia vivendo in quel contesto storico e sociale conoscendo fatiche e odori del mondo dello zolfo. Una realtà che è stata ricordata anche grazie alla vara, la flagellazione, i cui detentori sono i fratelli Cervellione e che fu commissionata proprio dagli zolfatai di Gesso Lungo. La presenza in cattedrale per l'occasione del gruppo sacro che viene portato in processione il giovedì santo rientra nell'idea di destagionalizzazione della settimana santa portato avanti dall'associazione Piccoli Gruppi Sacri, il cui presidente è Michele Spena e che ha curato l'evento insieme all'assessorato alla cultura del comune di Caltanissetta. Questo è stato uno degli appuntamenti organizzati in città durante il weekend in occasione della giornata regionale in memoria delle vittime delle miniere che ricorre proprio il 12 novembre, giorno in cui avvenne la tragedia di Gesso Lungo. Associazione Italiana Arbitri, tavola rotonda a Caltanissetta per i 75 anni della sezione Nissena. Per il 75esimo anniversario della sua nascita l'associazione italiana arbitri della sezione di Caltanissetta ha organizzato al Teatro Margherita una tavola rotonda sul tema arbitri e legalità, dove si è riunito tutto il Comitato Nazionale dell'AIA alla presenza del presidente, l'ex arbitro di Serie A Alfredo Trendalange. Presenti tra gli ospiti tutta la sezione arbitrale di Caltanissetta, alcuni dirigenti regionali, forze dell'ordine, il presidente della Lega Nazionale Direttanti Sicilia Sandro Morgana e l'ex arbitro donna Katia Senesi. È un evento eccezionale per noi perché pensiamo prima di tutto di riuscire a parlare una lingua comune che è quella della legalità e poi in un momento di festa perché i 75 anni della sezione di Caltanissetta sono davvero tanti e vissuti con l'assunzione di compiti educativi attraverso lo sport che è un po' la metafora della vita dove si impara a crescere insieme. Calcio pari a reti inviolate tra San Luca e San Cataldese in Calabria, 1 a 1 della Nissa al Palmitelli contro l'Enna. Calcio Serie D pareggio a reti inviolate tra San Luca e San Cataldese, un punto utile in chiave salvezza per i Verdi Amaranto contro una diretta concorrente per la permanenza nel massimo campionato dilettantistico nazionale. In un campo difficile la squadra di San Cataldo ha dimostrato di avere i mezzi tecnici per aspirare ad una zona di classifica decisamente più tranquilla. E ora testa al derby con il Licata, molto sentito dalle due tifoserie, in programma domenica al Valentino Mazzola alle 14.30. i risultati dell'undicesima giornata. Catania Canicatì 3 a 0, Trapani Santa Maria 2 a 1, Licata Cireale 1 a 0, Paternò Castrovillari 1 a 3, Ragusa Realaversa 2 a 1, San Luca San Cataldese 0 a 0, Mariglianese Cittanova 0 a 1, Vibonese Lamezia 1 a 1, Locri Sant'Agata 2 a 1. La classifica Catania 31, Lamezia 21, Vibonese 20, Locri 18, Ragusa 17, Realaversa, Castrovillari, Trapani, Licata e Sant'Agata 15, Paternò 13, Santa Maria, San Luca, Canicatì 12, Acireale, San Cataldese 11, Cittanova 8, Mariglianese 3. In eccellenza la Nisse non va oltre il pari, 1 a 1 nel confronto casalingo con l'Enna al Palmintelli. Biancoscudati in vantaggio nel primo tempo con Martorana, ispirato da Morales. Nella ripresa gli ospiti piggiano sull'acceleratore e raggiungono il pari su calcio di rigore. Dagli 11 metri Amaia non sbaglia l'appuntamento con il gol. I risultati della decima giornata. Parmonval-Mazzarese 1 a 2, Casteldaccia-Cuspalermo 0 a 0, Leonfortese-Resuttana 1 a 0, Sciacca-Profavara 0 a 1, Acragas-Castellammare 1 a 1, Mazzara-Don Carlo 0 a 1, Nissa-Enna 1 a 1, Oratorio-Marineo Gela 2 a 1. La classifica. Acragas 24, Don Carlo 22, Profavara 21, Mazzarese-Enna 20, Mazzara 18, Sciacca 16, Casteldaccia 15, Nissa 12, Castellammare 11, Leonfortese 10, Oratorio-Marineo 9, Resuttana, Cuspalermo 7, Parmonval 4, Gela 3. Nissa, le interviste del dopoderby con l'Enna parlano allenatore e dirigenti. In settimana la Nissa ha rimodulato il suo staff societario e tecnico. Dopo le prime due partite in pectore, ieri è stata la prima ufficiale di Alessio Sferrazza come allenatore della squadra bianco-scudata. Per la parte dirigenziale, Vincenzo Cancelleri è stato nominato direttore generale ed Antonio Emma confermato direttore tecnico. A fine partita abbiamo ascoltato i commenti dei protagonisti e del presidente Sergio Iacona. Sono estremamente soddisfatto perché abbiamo assistito ad una partita veramente molto bella, nella quale non è che abbiamo tenuto testa. Abbiamo dominato una squadra con mezzi tecnici superiori a quelli nostri e la sorte non ci ha aiutato perché se avessimo vinto non avremmo rubato nulla. Il dato soddisfacente è che ho visto veramente dare il cuore in campo, una squadra che si è impegnata allo stremo e che in questo momento probabilmente ha bisogno di qualche rincalzo in più perché forse la differenza sta lì. Però siamo molto soddisfatti. Ma le sensazioni sono positive, la squadra oggi ha dimostrato veramente di esserci, abbiamo fatto una grande partita contro una grandissima squadra, quale Lenna. Il risultato alla fine lascia un po' di rammarico però va bene perché è comunque un punto che muove la classifica e soprattutto abbiamo visto una partita di vecchi tempi qui al Palmintelli. Speriamo adesso dalla voce si capisce pure che ho gridato parecchio, quindi speriamo adesso di ritornare a giocare al Tomaselli in uno stadio degno di una partita di calcio e comunque faccio complimenti al mister e a tutti i giocatori perché veramente oggi hanno dato e dimostrato l'attaccamento a questa squadra. Noi come società ci prefiggiamo questo, di fare bene, di continuare a fare bene e speriamo che da adesso il partito renda un nuovo campionato. Ho visto una gran bella partita, ho visto un gran cuore da parte dei ragazzi e da diverse settimane che provo a inculcargli la mentalità vincente. Oggi ci abbiamo provato in tutti i modi. Purtroppo potevamo chiuderla facendo il 2-0 con Martorana, poi quando non la chiudi contro un'enna così forte e rischi di pareggiarla come è stato d'altronde. Però devo far solo un applauso ai ragazzi perché hanno meritato tanto, hanno meritato questo pubblico e se continuiamo così prenderemo grosse soddisfazioni. Volley serie B2 femminile, girone M, Albaverde vittoriosa sul campo della Stefanese, 0-3 il risultato finale. Le Nissene sono al primo posto con Crotone e gioiosa Marea. Sabato alle ore 18 al Palacanizzaro l'Albaverde ospiterà il Comiso. Basket serie D maschile, girone B successo dell'invicta in trasferta, 48-96 contro la Scull Messina nella terza giornata di campionato. Nisseni i primi a quota 4 con Capodorlando, Leonardo da Vinci e Cefalù che domenica sarà impegnato proprio al Palacanizzaro contro l'invicta partita per l'alta classifica. È tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Bentornati, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo, giornata di martedì con una perturbazione che da ovest raggiungerà tutto il centro nord Italia, una perturbazione sospinta da venti oceanici che in settimana ancora interesseranno l'Italia con occasione per delle precipitazioni. Nel dettaglio possiamo notare di fatto una giornata che vedrà un peggioramento sin dalla mattinata al nord-ovest con piogge, rovesci sulla Liguria e poi nella seconda parte del giorno fenomeni anche sulle centrali tirreniche ed il nord-est. In sintesi la mappa dell'Italia e il maltempo in arrivo su parte del centro nord, più sole invece al sud con clima mite per i venti di Scirocco. Dettagli maggiori li trovate scaricando l'app di Trebi Meteo.